Onorevole Schifino, aeroporto sì, aeroporto no, però al momento sembra che questo aeroporto di Sant'Anna deve essere cancellato o quantomeno ridimensionato che equiparrebbe alla cancellazione. Nel momento in cui la politica locale si dovrebbe coalizzare tutta per cercare di non fare avvenire e ciò vi disperdete in tante cose, devo fare un consiglio provinciale ad hoc, non è stato fatto, perché? Guarda, innanzitutto il Presidente Zurlo non l'ho sentito esprimere un giudizio chiaro sulle posizioni che ha portato Scoperlite esattamente il 14 dicembre all'aeroporto di Sant'Anna che ha detto testualmente che per Crotone veniva ad essere una collocazione di complementarietà nella rete degli aeroporti calabresi ed era destinata ai cosiddetti voli chart che significa un aeroporto solo stagionale con un volo ogni sabato e quindi significava la fine dell'aeroporto di Crotone. Ha detto anche praticamente che Siver per la prima volta che non fa parte del piano regionale degli aeroporti che è l'ultimo piano risale al 1997 ma comunque è l'unico piano ancora in vigore che può essere compatibile con Crotone. Una grande sciocchezza perché non può essere compatibile con Crotone a distanza di 100 km si possono avere due piccoli aeroporti. Non solo ma ha fatto il riferimento anche all'aeroporto di Olbia dicendo che Crotone poteva fare quello che fa Olbia. Olbia come lei sa è un aeroporto internazionale del turismo ed è l'aeroporto della costa Smeralda tant'è vera che fa parte di quei 10 aeroporti che in questo piano passera che poi in realtà era un piano fatto dal governo Berlusconi che è solo uno studio, verrebbe salvata proprio per l'importanza che ha Olbia a livello internazionale, mica a Crotone. Ma adesso voi perché a Crotone non si sta prendendo una presa di posizione per salvare all'aeroporto? Perché i rappresentanti locali di questa maggioranza stanno di centrodestra a farne due giochi a seconda dove ci si gioca. Abbiamo fatto come lei si ricorderà il 22 un consiglio provinciale sulle infrastrutture, quindi la ferrovia, la 106, i porti e l'aeroporto e lei si ricorderà che c'è stato un intervento del vicepresidente Stasi che ha detto tutto a posto, Crotone non si tocco, questa è la scelta, Silber non nascerà, eccetera. E sa che lo stesso giorno il presidente Scopelliti a Cosenza si è impegnato pubblicamente a sostenere i lavori di costruzione di un nuovo aeroporto a Silber investendo 30 milioni di soldi regionali. Allora loro devono chiedere dove stanno, non possono attaccare adesso Passera, Passera ha presentato uno studio ai presidenti delle regioni e ha detto fate delle voi le scelte prioritarie, la situazione è così. Quindi non c'è un piano locale? Ma no, non c'è una posizione chiara di questo centrodestra perché non riescono a dire che Scopelliti si è impegnati a far nascere l'aeroporto di Silber e lo devono dire chiaramente nel Consiglio. Ti devo dire perché la Commissione... Allora, onorevole Schifino, riprendiamo da dove abbiamo lasciato, la riunione per questo aeroporto si è fatta sì o no? Il presidente Zullo sa benissimo come funziona la provincia, c'è un regolamento, per convocare una riunione di Consiglio ci deve essere la Commissione ad hoc che deve discutere, la Commissione trasporta, anche perché lì si deve verificare se c'è la maggioranza e la maggioranza vanno coesi in un Consiglio provinciale, cioè se hanno la stessa posizione, non che si vai in ordine sparse. E del resto il presidente sa benissimo che tutti gli appuntamenti ultimi importanti, da quando abbiamo discusso delle infrastrutture al dimensionamento scolastico, al documento unitario sulla questione della non soppressione delle province, il Consiglio si è presentato con una maggioranza sparpagliata, noi di minoranza abbiamo sempre garantito la presenza. Quindi non c'è una maggioranza di centrodestra. Il presidente venga in commissione a discutere con i consiglieri che cosa hanno detto, compresi anche i capi gruppi della maggioranza, che dobbiamo andare coesi al Consiglio e per andare a coesi stiamo recuperando il documento di passare, diciamo così, per valutare e andare con una posizione unitaria. Allora lui non può pensare che il Consiglio si faccia così come un'armata a bianca leone, senza a volte nemmeno avere la maggioranza dei presenti, senza che si possa concordare un documento. Io devo dire e devo prendere atto e do atto anche ai capi gruppi di maggioranza che sono fermamente convinti di sostenere l'aeroporto di Sant'Anna, al di là di tutto. Consigliere Bonifiglio, doveva esserci un Consiglio provinciale ad hoc per discutere la questione dell'aeroporto. Il Consiglio provinciale non si è fatto più, perché? Ma intanto il Consiglio provinciale non è che non si è fatto, il Consiglio provinciale si farà nei prossimi giorni in quanto i capi gruppo, tutti i capi gruppo, maggioranza e minoranza. All'unanimità abbiamo deciso di approfondire questa tematica del declassamento dell'aeroporto Sant'Anna, perché insieme ad altri problemi che assillano il nostro territorio, la nostra provincia, perché noi siamo isolati, così come le ferrovie e così come la rete stradale fa acqua da tutte le parti, cominciando dalla nostra provincia e finendo alla 106. Evitiamo di fare l'elenco di tutto quello che non funzioni, che lo sappiamo tutto, consigliere Bonifiglio. Parliamo nello specifico dell'aeroporto. L'aeroporto, così come sta procedendo la contestazione dei politici locali, non sembra che si siano messi sulla stessa scia dell'abolizione dei treni a lunga percorrenza, che una volta tolto poi si è fatto qualche contestazione così, ma i treni continuano a non esserci. Io penso che la questione dell'aeroporto è un problema diverso, perché è un problema nazionale che riguarda tutti i tipi di aeroporto come i crotoni che verrebbero declassati. Verrebbero declassati. E proprio per questo noi vogliamo far sì che questo non avvenga, proprio parlando delle altre carenze, perché sembra che è l'unico appiglio che noi possiamo avere come provincia di Crotone. E vogliamo vedere da che parte sta la deputazione nazionale e la deputazione regionale, perché a mio avviso è molto importante il loro parere. Perché non possiamo pensare di aprire altri aeroporti, anche se si parla di aeroporti per scalomerci. Sì, però adesso bisogna rivolgersi al Parlamento nazionale, regionale, ma secondo lei la provincia di Crotone e i politici della provincia di Crotone, di Crotone tutti, quale azione dovrebbero fare, ma incisive, affinché gli aerei dell'aeroporto di Crotone continuino a volare. Ma proprio per questo noi abbiamo spostato il Consiglio, non abbiamo inteso tenerlo oggi, perché tenga presente che la riunione di Capi Gruppo era stata fatta ieri, quindi a 24 ore non potevamo fare un Consiglio con un problema così scottante. Mi meravigliano le dichiarazioni del Presidente Zurlo, dove attacca principalmente la sua maggioranza, perché a mio avviso i problemi non hanno colore politico e questo dell'aeroporto è un problema forte, è un problema che c'è e noi dobbiamo fare in modo di far emergere che Crotone è isolata e perché emerga questo ci vuole una contestazione massiccia e univoca da tutte le parti politiche. Ma Giulio attacca la sua maggioranza perché è incapace politicamente o perché è spaccante? Ma questo non lo so. E dai sentori che a lei insieme al Consiglio Provinciale? Ma questa è una maggioranza che non si capisce. Un giorno è maggioranza A, un altro giorno è maggioranza B, un altro giorno è maggioranza C. Un altro giorno è una maggioranza... Questo perché si sentono già in stand by per il fatto che...